Ora, battete sul Jingle Flower Sì! Questo è il pentamusichiere in cui verranno inserite le gemme del pentagramma Le gemme del pentagramma? Sono diverse dalle note magiche Adesso pronunciate la formula del cerchio magico Da oggi parteciperà anche l'Ullabe Subito! Magia della musica crea l'armonia Magia della musica crea la melodia Magia della musica crea la sinfonia Magia della musica ora risplenda L'esempio magico si accenda Negozio di magia Trasformati!